salve benvenuti nel mio canale youtube oggi ci addentriamo nei mefasti di una cosa che io non sono tanto pratico nel senso che io andremo a fare un tutorial sulla playstation io non sono un utente playstation non gioco mai alla play però mi hanno chiesto alcuni utenti mi hanno chiesto se potete fare questo tutorial e adesso lo andiamo a fare premetto già che io non ho la playstation vi faccio vedere come si fa però io non posso vedere a schermo quello che dovete fare voi ok però la cosa è molto semplice andiamo praticamente a parlare della possibilità di fare di riprodurre la ps4 in remoto cioè nel vostro computer nel vostro televisore no perché ci giocare con la playstation o nel vostro cellulare allora noi adesso partiamo per windows però si può fare anche per android e ios vi lascio il link in descrizione dovete scaricare questo questo applicativo i requisiti la preparazione del tutto del lavoro è avere un computer la playstation controllo wireless dualshock e 4 un cavo usb un adattatore wireless dualshock poi qua dice utilizzando un adattatore wireless e possibilizzare il controllo in wireless ok perciò qualsiasi disposti pennina wireless va bene alcun account playstation network connessione internet ad alta velocità vabbè questa dice maggiore prestazione almeno una connessione dei 15 megabyte vabbè questo vabbè e qua dice che per utilizzare la chat vocale bisogna avere un microfono va bene la prima cosa da fare è scaricarsi il programma questo qua io l'ho fatto vedere per windows ma c'è anche per mac e ripeto android e ios allora lo scaricate lo installate cosa è molto importante che non tutti lo fa però durante l'installazione potrebbe aprire una richiesta di scaricare un software e altro software aggiuntivo puoi dare tutti i permessi a schermo per poter installare questo questo software una volta scaricato il programma è installato prima di usare questa applicazione sarà necessario effettuare seguenti operazioni nella playstation dentro la playstation perciò aprite la playstation andare su selezionare impostazioni poi andare su impostazioni della connessione di riproduzione remota e poi selezionare la casella abilità riproduzione remota fatto questo uscite e adesso dobbiamo attivare il sistema come ps4 principale perciò andiamo impostazioni gestione account attiva ps4 principale ok una volta fatto questo avviare la riproduzione remota mentre il sistema ps4 si trova in modalità di riposo poi andiamo a impostazioni 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 di risparmio energetico e poi dobbiamo impostare la funzione disponibile nella modalità riposo e poi selezionare la casella rimani connesso a internet e abita l'accensione della ps4 dalla rete ok molto semplice vi lascio il link in descrizione comunque poi l'uso della riproduzione remota allora qua praticamente una volta fatto il configuro tutto per usare l'impostazione remota dovete accendere la playstation oppure mettere il modello a riposo e collegare il controller al computer tramite come ho detto wireless con cavo usb oppure accoppiare utilizzando una trattore usb wireless però come cosa tecnica vi posso dire tranquillamente che se il 2 shock funziona anche in modalità bluetooth basta che lo accoppiate col bluetooth poi cosa dobbiamo fare dobbiamo lanciare la riproduzione remota sul computer e quindi fare clic su avvia ok poi primavera c'è del tuo computer per la playstation network ok perciò ripeto bisogna avere un account playstation network allora cosa importante che sarà necessario associare il sistema ps4 al computer manualmente se non è stata attivare il sistema ps4 come sistema principale o se questa applicazione non riesce a trovare la playstation ok cosa dice qua che praticamente dobbiamo connettere il computer alla playstation tramite sulla stessa rete ok dovete essere connessi alla stessa rete questo bene era inutile che ve lo dicevo perché sicuramente siete connessi alla stessa rete del router ok ok alcuni giochi non supportano la riproduzione remota perciò dovete vedere o parlare col vostro negoziante di fiducia se quel gioco che vi piace è abilitato a questa cosa qua vi lascio anche questo qua che c'è l'assistenza clienti ok questa è l'assistenza clienti e praticamente poi lì potete fare tutte le varie informazioni se avete problemi vi do un consiglio prima di fare tutto questo qua dove verificate due fattori per tutto fate un test della connessione come si fa allora prima di tutto abbiamo detto facciamo un test andando su impostazioni rete verifica connessione di internet in base ai dati che vi danno potete capire se è possibile fare questa opzione allora se avete una vdsl come connessione una fibra misto rame non ci dovrebbero essere problemi poi dipende da quanto siete lontani dalla centrale se avete la fibra ottica la fdth come ce l'ho io allora sicuramente non avete problemi in caso vedete che ci avete una bassa una bassa banda specialmente anche il ping e l'upload vedete che è molto basso allora potete forse risolvere con questa procedura qua andate su impostazioni qualità video riproduzione remota sulla schermata d'avvio sensuale riproduzione remota ps4 confira le seguenti impostazioni scegliete la risoluzione standard 540 o bassa in modo che non so chi ha molta banda per la frequenza di fotogrammi scendere standard ok questo sicuramente se avete una bassa potenza internet il secondo fattore che vi consiglio collegare assolutamente la playstation tramite cavo lan è fondamentale questa cosa perché più tu voi sapete che la connessione internet in monità lan è molto più stabile della della wifi in caso non avete la possibilità di fare tutto questo è possibile fare adottare un sistema power line che cos'è la power line power line è un dispositivo che adesso vi faccio vedere per chi non lo sapesse allora ecco questa è la parola che sono sono degli degli spinotti che mediante la corrente elettrica manda la connessione internet perciò se voi vicino al modem avete una presa elettrica ricordo che non devono essere adottate doppie prese deve essere l'attacco deve essere diretto alla presa del muro perciò niente ciabatte niente doppie prese e niente raccordi ok deve essere diretta volta cosa succede una volta che avete messo la parte principale cioè la prima parte ci sono due sistemi la prima parte nella presa è attaccato il cavo lan al dispositivo e poi attaccato alla corrente l'altra parte lo attaccate vicino alla playstation ok e li riattaccate un cavo lan alla playstation in modo che mediante la corrente elettrica viene mandata la banda internet ok naturalmente per poter funzionare dovete avere in casa un unico contatore sicuramente ce l'avete a meno che in casi particolari tipo il mio io c'ho due contatori ma perché a me mi serve per questo diversi scopi però generalmente il 99 per cento delle persone degli utenti consumer ok hanno uno stesso contatore perciò funziona lo potete mettere in qualsiasi parte perché la corrente è sempre unica e vi funziona ok adesso se volete in caso vi lascio in descrizione alcuni prodotti buoni a poco prezzo e vi lascio alcuna in descrizione alcuni prodotti se le volete ordinare tornando qua cosa ci permette poi adesso vediamo le caratteristiche del sito di windows allora cosa ci permette fare questo possiamo streamare le nostre partite tramite youtube ok tramite un programma che si chiama obs studio possiamo mandare praticamente le partite sul nostro canale youtube sul nostro canale twitch senza usare gli apposti dispositivi streaming che sono molto più costosi e più complicati da configurare ok allora adesso andiamo a vedere le configurazioni minime base di windows e poi vi lascio vi lascio vi lascio finisco il tutorial alla windows deve avere come sistema operativo minimo windows 8 o windows 10 vabbè processore minimo il 5 560 m da 2,67 gigahertz ok oppure un processore intel 240 m da 2,50 gigahertz ecco questo è importante quando si usate la risoluzione massima cioè 1080 la frequenza dei fotogrammi elevata ok dovete veramente accettare come ho detto prima di avere almeno 200 megabyte di memoria disponibile cioè libera 2 giga di ram e la risoluzione del display di 1024 x 7,68 ok allora questo non ci interessa la distrazione del programma se parla di android così facciamo facciamo no va bene se in caso vi interessa anche il sistema android o ios per telefono mi commentate il video ok spero di essere stato utile commentate il video se vi interessa altri tutorial iscrivetevi al mio canale ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao ciao